Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, scusami un attimo solo, eh. Allora lei viene da Ferrandina, non canta, ma è grandissima. È lei che ha fatto questa meraviglia e tutta la pubblicità cartacea e non cartacea. Grazie, veramente grazie. Le vuoi dire tu qualche cosa? Lui invece è colui il quale ha fatto il sito e ovviamente è colui il quale la, come dire, ha contatto con, ha, con i media, con i media. Io ringrazio il direttore artistico per questa chiamata inaspettata e non so che dire, lo ringrazio per, ma i fiori non penso siano per me. No, sono per lei, eh, grazie.